Prima di guardare il video, ti chiedo un piccolo favore. Schiaccia il tasto iscriviti e metti mi piace. Grazie mille. La cronaca rosa italiana è stata recentemente scossa dalle parole di Anna Tatangelo, che ha rivelato alcuni retroscena sulla sua tormentata relazione con il cantante Gigi D'Alessio. La loro storia d'amore, che ha avuto inizio quando Anna aveva solo 15 anni e Gigi 35, è sempre stata al centro dell'attenzione mediatica, creando un legame che sembrava indissolubile agli occhi del pubblico. Ma come si suol dire, non è oro tutto ciò che luccica. Anna, ora una donna di 35 anni, ha raccontato le ragioni del distacco da Gigi, 55 anni, durante una recente intervista. La cantante ha descritto un progressivo deterioramento della relazione, che culmina con litigi sempre più frequenti. Era diventato insostenibile, confessa Anna. Arrivavamo a sera e non ci parlavamo nemmeno più. Era come vivere con un estraneo. La Tatangelo ha poi aggiunto un dettaglio che ha fatto molto discutere. Gigi è il classico napoletano che vuole sempre gente intorno. Il nostro salone era sempre pieno di persone, un via vai continuo che a me infastidiva moltissimo. Questa situazione, stando alle parole di Anna, avrebbe contribuito a creare un baratro sempre più grande tra lei e Gigi, portando infine alla rottura definitiva. Il racconto di Anna non si ferma qui. Ha anche espresso un sentimento di soffocamento, dovuto forse alla grande differenza di età e alle aspettative che Gigi aveva nei suoi confronti. «Mi sentivo in gabbia, volevo solo un po' di tranquillità, ma per Gigi era impensabile», ha dichiarato l'artista, mettendo in luce un contrasto di desideri e stili di vita che sembra avere eroso l'amore una volta inossidabile tra i due. Le parole di Anna hanno scatenato una valanga di reazioni sui social, con i fan divisi tra chi sostiene la sua sincerità e chi invece accusa la cantante di essere ingiusta nei confronti di Gigi. Quest'ultimo, al momento, non ha ancora risposto alle dichiarazioni dell'ex compagna, lasciando un alone di mistero su questa vicenda che continua a tenere banco. Nel frattempo, Anna e Gigi cercano entrambi di rifarsi una vita lontani l'uno dall'altro. La Tatangelo si è dedicata alla sua carriera musicale e alla conduzione televisiva, mentre D'Alessio ha recentemente lanciato un nuovo album. Nonostante la fine della loro storia, le canzoni e i ricordi condivisi continueranno a legare indissolubilmente questi due artisti, che hanno scritto insieme pagine indelebili della musica italiana.